In Francia, a partire dall'undicesimo secolo, si iniziano a diffondere i primi poemi in versi in una nuova lingua, sono le chansons de geste, cioè le canzoni delle geste, le canzoni delle grandi azioni, dei grandi atti eroici. Queste canzoni raccontano imprese militari di cavalieri e di nobili, sono scritte in versi divisi in strofe che sono chiamate lasse e di solito erano come poi poemi epici classici accompagnati, raccontati, ma in questo caso accompagnati anche dalla musica ed erano cantate dai giullari. La più celebre delle chansons de geste è la chansons de Roland, italianizzata nella canzone di Orlando, a protagonista appunto il conte Orlando, Roland in francese, e parte dalla guerra, dalla vicenda della guerra tra Carlo Magno e i musulmani nel nord della Spagna. Le chansons de geste avevano quindi come argomento principale le figure di Carlo Magno e dei suoi paladini, cioè dei dodici nobili più valorosi e più vicini al sovrano, e queste avventure costituiscono quello che viene chiamato il ciclo carolingio. Sempre in Francia, nelle corti del nord, quelle diciamo più, se vogliamo, nobili, a partire dal dodicesimo secolo si afferma un nuovo genere, il romanzo cortese. Romanzo cortese che, oltre alle avventure militari, unisce il tema amoroso e si raccontano la storia e le leggende, questo mix, dei re di Britannia, cioè di una regione del nord della Francia. E qui nasce appunto, da questo nome, il nome di ciclo bretone o arturiano. È il ciclo famoso delle avventure delle gesta del mitico re Artù e dei cavalieri della tavola rotonda. Il più celebre autore di questi romanzi cortesi è Crétien de Troyes, e tra le storie più famose legate al ciclo arturiano e al re Artù, ci sono anche quelle legate al merlino e alla spada della roccia, Excalibur, celebrate ad esempio da Thomas Mallory. Ci sono le avventure dell'amore clandestino tra l'ancillotto e Ginevra, tra Tristano e Isotta, eccetera, eccetera. Sia le chanson de geste che i romanzi cortesi sono scritti in questa nuova lingua, che è la lingua d'Oil, la lingua da cui deriva il francese moderno. A partire dalla Francia, il genere delle chanson de geste, che quindi ha come centro le imprese militari, è scritto in versi, vede come protagonisti un mix di personaggi storici e inventati, si diffonde questo genere anche in Spagna, dove prende il nome di cantare. I cantari spagnoli prendevano spunto appunto da personaggi fatti storici, a volte anche contemporanei o comunque molto recenti, che erano conosciuti dal grande pubblico. Uno dei temi favoriti, dei più raccontati, era la guerra tra i cristiani e i musulmani, che si inseriva appunto nell'idea della reconquista spagnola dei territori che erano in possesso dei musulmani. La lingua dei cantari spagnoli è il castigliano, da cui deriva lo spagnolo moderno, e il cantare più cebrebre è il cantare del signo. In Germania la tradizione germanica fa compiere a questi poemi, in questo genere del poema medievale, un percorso diverso. Infatti si attinge soprattutto alla mitologia nordica. Nei poemi epici di origine germanica ci sono ovviamente le imprese militari, ma queste imprese militari sono affiancate da elementi soprannaturali e magici, da mostri e da creature fantastiche, nuove, lo abbiamo accennato prima, che non sono quelle che derivano dal mondo classico. Il poema più celebre è il canto dei Nibelunghi, che è dell'inizio del XIII secolo ed è scritto in antico tedesco. Per quanto riguarda lo stile, le chansons de jazz francesi, cantari spagnoli e l'epica germanica presentano alcune caratteristiche comuni, che sono tipiche della tradizione orale e che in un certo senso sono anche presenti nell'epica classica. La presenza di ripetizioni e formule fisse, il narratore che interviene spesso nel racconto rivolgendosi direttamente al pubblico, per anche tenere viva l'attenzione e coinvolgerlo, l'idea di utilizzare molte similitudini e di accompagnare, appunto in qualche modo, l'ascoltatore a seguire facilmente la vicenda. I romanzi cortesi, che invece erano destinati alla lettura e non all'ascolto, hanno uno sviluppo narrativo più complesso e sono più ricchi di colpi di scena.